La storia della ceramica di altri pepi parte da mio padre, che dal 55 dalla Calabria si trasferisce a Cislago, lì praticamente nella ceramica di Cislago si forma, diventa un modellista, addirittura dopo qualche anno viene trasferito in un certo senso in Perù per avviare una nuova azienda. A fine anni 70 torna in Italia e si mette in proprio e da lì praticamente si parte e diventiamo la ceramica tripepi. In questo momento produciamo accessori per le pipe, accessori per i sigari, arredo bagno, articoli promozionali e oggettistica in genere, lampade e tutto quello che un designer vuole con un progetto sviluppare. È un mestiere veramente artigianale dove comunque il buon gusto fa da padrone. Da noi, da dei granuli di argilla, dobbiamo riuscire a formare un oggetto quasi privo di imperfezioni. Questo è il nostro punto di forza. Con tutta la passione che ho per questo mestiere, credimi, in questi 25 anni che sono artigiano, mi auguro di farne altri 25 sinceramente perché non ho nessunissima intenzione di mollare.